Buongiorno a tutti gli amici, gli amiche e gli interlocutori presenti oggi. Grazie alla comunità di Salute Domani, quello che viene presentato oggi è un lavoro che parte da lontano. Ringrazio perché poi gli stimoli che sono venuti questa mattina mi permettono di fare alcune considerazioni anche rispetto alle proposte che sono state presentate che vanno nella direzione a cui tutti quanti puntiamo, ognuno per il suo ruolo, per la sua funzione, che però richiede ora una trasformazione da affermazione di principi in atti concreti. L'affermazione è mettiamo i bisogni delle persone al centro dei sistemi, facciamo sì che siano i sistemi da adattarsi ai bisogni delle persone e non viceversa. Diciamo più semplice a dirsi che a farsi anche perché vanno superati i problemi organizzativi, strutturali che ci mettono quotidianamente di fronte ai limiti di un modello che per essere reformista davvero deve mettere concretamente al centro dei bisogni delle persone. E mi concentrerò su questo per fare alcuni commenti e poi per collegare le mie considerazioni anche alle cose che sono state dette e alle proposte che sono state fatte, in particolare sulla proposta 4 e 5. Lo dico perché Don Vincenzo stamattina, Monsignor Paglia, annunciava questa proposta di legge delega che è in parte in attuazione della missione 5 del PNRR che speriamo che possa essere portata e varata in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane, che prevede la riorganizzazione di un pezzo importante dell'assistenza degli anziani al nostro Paese. Una parte riguarda tutto ciò che è collegato con la nuova autosufficienza, appunto attuazione della missione 5, ma l'ambizione è anche di fare un discorso più ampio, una riflessione più ampia, azioni più ampie che attivino un percorso di gestione e di sostegno a tutte le persone che si trovano nella condizione di essere anziani e che hanno bisogno di una serie di servizi. Su questo il tema dell'integrazione tra sociale e sanitaria è fondamentale perché in molti casi parliamo di differenze anche dal punto di vista delle risorse enormi. La parte sociale nel corso degli ultimi anni ha visto un aumento delle risorse a disposizione ma parte da molto dietro, ad una desertificazione dei servizi a livello territoriale e una difficoltà enorme che viene aumentata e amplificata dalle enormi disuguaglianze che abbiamo nel nostro territorio, che non sono solo disuguaglianze di servizi ma anche disuguaglianze di modelli organizzativi che impediscono la relazione, ad esempio in questo caso, strutturalmente tra parte sociale e parte sanitaria. Non voglio fare spoiler su quello che poi accadrà nelle prossime settimane, ma vorrei fare tre considerazioni che si collegano bene al quarto punto. Cosa abbiamo proposto noi come Ministro della Salute all'interno di questo percorso di riforma? Tra le altre cose, tre in particolare. La prima, che all'interno delle case della salute vi sia il punto unico di accesso. Dobbiamo fare in modo che i cittadini abbiano un unico punto di riferimento e non di trovarsi nella condizione a quale siamo stati abituati per troppi anni, che anche l'amministrazione in ottima fede ti dica quando tu chiedi qualcosa guarda io posso arrivare fin qui. Per quest'altro vai all'altro ufficio. In alcuni casi magari anche a decine di chilometri, immaginiamo le persone che abitano nelle aree interne del nostro paese circa 12 milioni di cittadini. Ecco, il primo pezzo della rivoluzione sarà che all'interno delle case di comunità ci sarà il punto unico di accesso che prevederà una valutazione multidimensionale, nel senso che le condizioni delle persone sono in evoluzione e quindi meritano degli approfondamenti periodici in modo che si possano adattare l'insieme dei servizi ai bisogni di quella singola persona, di quelle singole condizioni. Secondo tema, la necessità di far sì che partendo da questa considerazione ci siano dei modelli organizzativi a livello territoriale che prevedano sostanzialmente, ora semplifico, dei distretti sociali che possono dialogare quotidianamente anche dal punto di vista organizzativo con i distretti sanitari e con le aziende sanitarie. Immaginate, penso a Giorgio, credo che più o meno la tua azienda sanitaria gestisca annualmente circa un miliardo di euro, più o meno, due miliardi, ecco, meglio mi sento. Immaginate dall'altra parte che deve dialogare quotidianamente magari con l'assessore di un comune che gestisce 20-30 mila euro l'anno di risorse per l'integrazione sociale. Diciamo, nella media quando si tratta, ma immagina forse no. Ora, ecco, diciamo, il direttore generale di quell'ASL manco lo riceve l'assessore, ma non per mancanza di volontà perché non c'è manco il tempo di poterlo fare. La nostra idea è di stipulare dei modelli organizzativi che attraverso un percorso di efficientamento delle risorse fermo restando che la governance rimane nelle mani dei comuni perché ovviamente i comuni conoscono puntualmente i bisogni delle persone e possono favorire un percorso di integrazione, ma attraverso un percorso di maggiore efficienza e di un modello organizzativo che a livello territoriale abbia una struttura che è capace di cooperare e collaborare con il servizio sanitario, possa realizzare concretamente quell'integrazione di cui parlavo precedentemente perché l'ufficio non basta se poi all'interno non c'è un collegamento organizzativo che permette a monte questi due silos di cooperare concretamente. Terzo ambito, la piena condivisione delle banche dati dei soggetti che in questo percorso hanno un ruolo centrale IMSS, INAI, Servizio Sanitario Nazionale, Regioni. Non se ne può prescindere e non è solo un problema guardare da questo punto di vista quante volte se ne parla è un modo per beccare i falsi invalidi. Ricordo a me stesso che il tema non è quello perché il livello delle persone che abusano e devono essere punite in modo durissimo dei servizi dello Stato su questo fronte è bassissimo. Il tema è far sì che il 99% delle persone possa essere curato e trattato al meglio e se non c'è la piena condivisione non funziona. E devo dire che una delle soddisfazioni migliori di questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi con il Ministro del Lavoro e con la Presidenza del Consiglio è che c'è una linea di totale condivisione su questo fronte ed è su questo poi mi ricollego la riflessione sui dati che parte da un vero discorso riformista che appunto parte dai bisogni delle persone. Considerazione sulla proposta 5. Mi sembra molto importante e pienamente condivisibile e devo dire che su questo è condivisibile anche perché è uno dei fronti su cui si gioca nel corso dei prossimi anni la maggiore innovazione su tanti ambiti da quello della farmaceutica e quello dei dispositivi medici a quello delle tecnologie digitali. Su questo va sollevato un altro tema e penso che tra di noi componenti di questa comunità che sta tentando ognuno per il primo pezzo di dare una mano alla crescita del nostro paese ce lo dobbiamo dire. Abbiamo bisogno anche di un'operazione di manutenzione straordinaria della governance del sistema, del servizio sanitario nazionale. Allora, in condizioni normali, quello di cui stiamo parlando dovrebbe andare nei livelli essenziali di assistenza. Dopo le approfondite valutazioni di carattere tecnico, organizzativo eccetera eccetera. Ricordo a me stesso che noi stiamo combattendo come Ministro della Salute, devo dire, in modo molto intenso per aggiornare i livelli essenziali di assistenza che sono stati definiti e codificati nel 2017 e che nel 2022 non sono ancora entrati in vigore. Quelli del 2017 andavano ad aggiornare quelli del 2001. Ora, che questo sia una cosa normale, io ho qualche dubbio, ce l'ho. Quindi se da una parte è evidente che dobbiamo mettere il meglio delle nostre energie per far sì che il PNRR abbia concreta attuazione, dall'altra parte non ci dobbiamo dimenticare che la gestione ordinaria merita un'operazione di manutenzione straordinaria, almeno dobbiamo fissare l'agenda in modo che chi verrà dopo di noi tra un anno con la prossima legislatura abbia un quadro di punti su cui intervenire perché chiunque dovesse vincere le elezioni con un sistema che non ha una capacità di mantenere un collegamento tra il tempo di decisione e quello di implementazione diventa molto dura anche raggiungere gli obiettivi belli, ambiziosi e per il quale tutti quanti dobbiamo combattere che sono stati condivisi questa mattina. Quindi da parte nostra, da parte del Ministro della Salute, e porto anche il saluto del Signor Ministro, c'è la massima disponibilità a far sì che questo sia un dialogo continuo perché per implementare le cose di cui ci siamo detti abbiamo bisogno del meglio dell'energia del nostro Paese e voi mi siete importanti rappresentanti. Grazie.